Ciao ragazzi, sono Andrea Bruno 4.0, sono giunto in Italia per vedere quello che sta succedendo. Dopo anni di vita all'estero mi è giunta voce così per caso che in Italia le cose non vanno molto bene e ho aperto a questo punto il mio canale su YouTube Andrea Bruno 4.0. Andrò in giro con questo arnese, mi intrufolerò lì esattamente dove c'è il problema. Assessori, sindaci, impostori della politica, abbiate paura perché andrò a intrufolarmi nelle vostre faccende. Non mi sfuggerà niente, farò un reportage preciso e dettagliato. Partirò dal nord Italia, dal confine con la Svizzera, Sondro, ex città Svizzera, andando a finire fino a Lampedusa. Nelle case anche degli italiani mi intrufolerò, abbiate paura perché chi ruba verrà stanato, verrete stanati tutti come dei ratti di fogna. E non sarò io a stanarvi ma sarà questa telecamera e porterà in diretta, nelle case della gente onesta, i vostri misfatti e quello che state facendo. Sarò io l'antipolitica, vi stanerò come ratti di fogna tra questa videocamera a riprendervi e quindi non mi sfuggerà niente. Ci seguiremo quindi, ci sentiremo sul mio canale, il mio canale su YouTube, Facebook, Twitter, ci sentiremo. E noi ci vediamo alla prossima.